Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Questa manifestazione podistica nasce come una delle tappe del circuito Corripuglia che è un torneo che viene disputato su tutto il territorio pugliese, sono 20 gare e noi rappresentiamo la quindicesima tappa. L'insegna Bitonto Sportiva nasce dall'idea di 20 soci fondatori che hanno messo su questa squadra e adesso conta oltre 206 iscritti, suddivisi tra master e giovanissimi, bambini che vanno dai 6 ai 18 anni.